All'interno di MidiTonight, la notte dei ricercatori europei in Italia, qui a Napoli a Federico II, lo spazio dedicato ai saperi umanistici è dedicato in particolare a un progetto ERC, finanziato dunque dalla comunità europea che si intitola Discompose, ed è dedicato alla comunicazione degli eventi calamitosi, delle catastrofi. Studiando gli eventi tra 6 e primo 700 nell'area del Mediterraneo, questi studiosi cercano di capire in che modo le notizie arrivasse dalla periferia al centro, come agisse il centro e come si creassero quelle reti di concetti, di parole, di immagini che servivano per spiegare eventi così disastrosi. Abbiamo scelto la Biblioteca Umanistica, la Brau, per fare questo incontro perché appunto i testi di cui si parlerà e che verranno letti da attori, musicati, da musicisti appartengono al patrimonio librario che qui a Federico II ha in grande quantità. naturali nel sudario del mattino. Il mondo era anche questo, sagome dentro finestre a 300 metri. E' pubblicato da singhiozzi del sacerdozio a tutti noi, come ai primogeniti dell'otto, eredi avvintestato della putredine. Vi aggranditene, possessori del mondo, non potete fare un passo oltre la tomba. in threshold, giustori del giorno, se molto strasellino. Vesperiamo attengo la canzone. Vesperiamo a buona carne.